Allo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona si riparte con gli ammortizzatori sociali, turni dimezzati per i 462 dipendenti, sono 40 impiegati e il resto operai. Il contratto di solidarietà parte oggi, durerà un anno. I turni notturni saranno sospesi, i lavoratori saranno operativi al 55% dei turni. La situazione però preoccupa non poco i sindacati perché i volumi produttivi si sono abbassati e le ripercussioni lavorative sono inevitabili. L'intesa raggiunta per il contratto di solidarietà, insomma, non deve far abbassare la guardia sullo stabilimento Peligno e sui futuri investimenti. Stabilimento la cui produzione è legata in maniera indissolubile per l'80% infatti all'ex Sevel di Atessa. La commessa Ducato intanto è stata confermata per altri sette anni e questa è decisamente una buona notizia. I sindacati però continuano a chiedere impegni precisi e forti che deve assumere la politica locale. Il tavolo regionale sull'automotive intanto si terrà proprio a Sulmona, come chiesto dal primo cittadino Gianfranco Di Piero che vuole attenzione rispetto a questa fabbrica. Il discorso è che la Marelli resta legata allo stabilimento teatino che non ha vissuto momenti felici nell'ultimo periodo. Per questo il rallentamento produttivo della fabbrica di Atessa ha avuto inevitabili ripercussioni pure sulla Magnati Marelli. All'Amarelli di Sulmona parte oggi il contratto di solidarietà che aveva durata di un anno. È l'ennesimo ricorso agli ammortizzatori sociali e questo chiaramente non ci lascia tranquilli per quanto riguarda il futuro di quello stabilimento, il quale può contare su un unico cliente che è la ormai quello stabilimento, questa mancanza purtroppo di investimenti c'è già da molto tempo. Va ricordato che come sindacato più volte abbiamo sollecitato le istituzioni locali per fare un approfondimento sulla situazione dello stabilimento di Sulmona, ma al momento non abbiamo ricevuto riscontri alle nostre sollecitazioni.